Ciao, sono Pino Calabrese, sono un attore di cinema, di teatro, di televisione e sono stato chiamato qui per leggere alcuni scritti di Pierpaolo Pasolini in occasione di questa stupenda mostra organizzata alle biblioteche di Roma in collaborazione con Mario Sesti e Luisa Mazzoni che è l'autrice di queste splendide tavole. Oggi è il 2 novembre, ricorrenza della morte di 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini che è stato più che un intellettuale, è stato un profeta, è stato un rivoluzionario da tutti i punti di vista nel campo della letteratura in generale, quindi della poesia, del cinema ed è un uomo che ha scarnificato nelle nostre anime un segno di grande modernità. Quindi il mio appello è quello di venire qui per vedere questa splendida mostra. Quindi a tutti i giovani, mi raccomando, siate qui presenti. Grazie, ciao. Grazie. 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 Grazie.